Anche questa settimana il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese mostra una tendenza alla leggera diminuzione. Siamo intorno a 9 casi per 100.000 abitanti contro i 12 per 100.000 della scorsa settimana. L'RT è anche in diminuzione, intorno a 0,63 e quindi ben al di sotto dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva siamo intorno al 3%, quindi ben al di sotto di quella che viene considerata essere la soglia critica. Qualche preoccupazione adesta però la circolazione di nuove varianti virali. È stato pubblicato proprio oggi il rapporto sulla Flash Survey condotta dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione col Ministero della Salute e i laboratori di riferimento regionale che mostra come la variante alfa, quindi la variante cosiddetta inglese, sia ancora predominante, intorno al 58%, seguita dalla variante delta, la cosiddetta variante indiana che è già al di sopra del 20% e dalla variante gamma, ovvero la variante brasiliana che è intorno al 12% di tutti i casi sequenziati. Quindi è necessario mantenere dei comportamenti individuali ispirati alla massima prudenza e soprattutto continuare a vaccinare.